L'immunità per le quattro più alte cariche dello Stato viola l'articolo numero 3 della Costituzione, quello che sancisce l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Lodo Alfano è incostituzionale. Lodo Alfano è incostituzionale. Cioè io sono i comunisti che portano avanti queste cose. Signor Violanti, signor Caselli, da Palermo, cioè tutta una combiccola. Tutto quello che gira attorno a queste cose portano avanti queste cose. Questo c'è, di questo governo questo. Se devono guardare di questi attacchi c'è comunista. Comunista 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 Comunista